Oggi lavoriamo sull'identità di Fior di Risorse intanto per una buona coscienza che Fior di Risorse ha, ovvero quello che ogni tot bisogna ripensarsi, fare il punto, fermarsi, capire dove siamo e procedere per quello che è utile alla comunità. Abbiamo capito quanto sia importante oggi dare la voce alle persone giuste quando si parla di lavoro. Una bella opportunità per capire quanto non sia importante solo quello che facciamo, ma come lo facciamo. Opportunità per se stessi, per chi ci sta attorno, opportunità di rimettersi in discussione, opportunità di capire meglio qual è la traiettoria che si è seguita fino ad oggi confrontandola con quella di altre persone che condividono spirito e valori. È bello stare insieme ad altri che la pensano diversamente, c'è contaminazione di idee, di modi di fare. Fior di risorse ha anche bisogno di riaffermarsi e nutrirsi di tutte le nuove leve che costantemente entrano in fior di risorse. Quindi come potrebbe non essere giusto il lavoro sull'identità? Definire dal chi siamo oggi per sapere chi saremo domani. Mi affascinava il modo in cui stavano costruendo una nuova cultura del lavoro. Non solo un contenitore, ma un flusso continuo di riscambio tra le persone. Questi due giorni vanno in questa direzione. Noi lavoriamo per crearci un linguaggio comune e quindi essere più efficaci nel comunicare chi è Fior di risorse e che cosa vuole realizzare da qui ai prossimi anni. Un senso di appartenenza per questa community veramente straordinario nonostante non ci sia niente da vendere, niente da comprare. C'è la possibilità veramente di far valere un'idea e le persone questo lo sentono e ne hanno bisogno. È un posto per curiosi questo Fior di risorse. Un'associazione che ha uno scopo molto preciso. È quella della circolazione del sapere in maniera virtuosa. Come passare da un mero motivo a raccontare ciò che si è nei fatti. Molto bene, benvenuti, buonasera a tutti. Secondo baratto delle competenze dell'anno, direi. Abbiamo iniziato con Andrea Buti la scorsa settimana, abbiamo fatto un bellissimo intervento sulla mediazione e sulla complessità che troverete di nuovo disponibile sulla pagina YouTube di Fior di risorse a cui vi suggerisco di iscrivervi, nel senso che c'è un pulsante iscriviti e grazie a quello, tutte le volte che parte una diretta di Fior di risorse o si mette in programma con qualcosa che riguarda Fior di risorse, venite avvisati con un piccolo messaggio. Quindi è utile soprattutto per quelli che hanno mille cose da fare e non ricordano bene le cose. Questo video che avete appena visto, alcuni lo sanno, altri no, è la due giorni che abbiamo fatto ormai due anni fa, quando non esistevano ancora le mascherine, in cui abbiamo disegnato il manifesto per una nuova cultura del lavoro, che potete, se volete, sottoscrivere, lo trovate sulla pagina web di Fior di risorse, c'è un link apposta con la possibilità di leggere e sottoscrivere il manifesto, che credo è molto bello, è il lavoro fatto con tante persone di tantissime provenienze diverse, per cui ha veramente un bel valore, che lo stiamo portando a nobili da tutti gli anni in grande evidenza, proprio per farlo conoscere sempre di più e ci piacerebbe cominciare a portarlo anche nelle scuole non appena sarà possibile. Questa frase la dico ormai da due anni, speriamo di smettere di dirla quanto prima. Allora, bene, vedo una buona partecipazione anche stasera, abbiamo raggiunto, abbiamo superato i 300 errotti soci di Fior di risorse a 18 giorni dall'inizio dell'anno, per cui spero di riuscire quantomeno a doppiare il numero dell'anno scorso, che eravamo quasi 500, quindi fino a fine febbraio c'è la possibilità di iscriversi, se avete amici, parenti, associazioni, aziende che condividono i temi del lavoro e hanno piacere di entrare all'interno, diciamo, di questa scatola dove si parla di lavoro in maniera contemporanea, direi, quindi considerando tutti quelli che sono i cambiamenti che questo anno ci ha riservato e tutto quello che ci aspetta nei prossimi tempi, direi che è il posto giusto per farlo, quindi invitate e fate conoscere Fior di risorse alle persone che pensate possano avere in qualche maniera un po' la stessa identità che avete. Bene, baratto delle competenze per chi non è mai stato qui prima è il nostro modo di presentarci agli altri, sapete che c'è chi ha piacere di svegliarsi alle 5 del mattino, entrare in un albergo e fare quelle riunioni terribili dove tutti cercano di vendere una macchina, un ferramenta e un tubo di ferro a un salumiere, noi eviteremo di fare cose di questo genere, facciamo invece questa operazione nella quale ci si presenta agli altri facendo vedere che cosa sappiamo fare, quindi chiediamo a chi si propone per questi 30 minuti di diretta, chiediamo di fare una lezione a tutti gli altri su una cosa che conoscono bene, in maniera tale che se siete convincenti magari trovate all'interno del gruppo anche chi potrebbe avere bisogno di voi, però quantomeno ha imparato qualche cosa da quello che sapete. Per tutti gli altri che magari non hanno bisogno di niente in questo momento, però è comunque 30 minuti di formazione, se vogliamo dire, sui temi più disparati, quindi il bello anche per conoscere tutte le caratteristiche, tutte le identità delle persone che sono in fior di risorse. Allora stasera abbiamo Pamela Nerattini, ve la presento molto velocemente, Pamela è una formatrice, si è specializzata sui temi del personal branding, sui temi dell'orientamento professionale, lo scorso anno ha pubblicato questo libro che si chiama Cercare un nuovo lavoro con LinkedIn, spero di aver citato il titolo bene Pamela, puoi cazziarmi tranquillamente. Visto che mi hai scritto tu la prefazione. Sì, 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 appunto ho scritto la prefazione di questo libro, ci tengo a precisare che non facciamo marketing in nessun genere, ma Pamela è una social come tutti gli altri, per cui quando si è proposta abbiamo accolto assolutamente la sua proposta. Però ecco, da parte mia ci tengo a dire che non è che faccio le prefazioni a tutti, se un libro è fatto bene, se convince e se penso che soprattutto su questi temi sia veramente valido, molto volentieri aiuto, supporto gli amici, i conoscenti, chi mi contatta per promuovere questi libri. E in particolar modo quello che mi ha convinto del libro di Pamela è che non è il solito manuale su come si fa il profilo LinkedIn, ma anzi ha tutta una prima parte proprio di accompagnamento a LinkedIn, dove vi serve, vi supporta e vi aiuta a capire a se avete bisogno di LinkedIn, se siete le persone giuste per LinkedIn, arrivare anche a pagina 30 e dire vabbè ma io LinkedIn che cacchio ci faccio, chiudo il libro e me ne vado. Ecco, quindi diciamo la particolarità rispetto a tanti altri libri sul tema probabilmente è proprio questa, che prima di farvi perdere del tempo a mettere le mani su un profilo intanto cerchiamo di capire se vi servirà, ecco, perché molto spesso e volentieri pensiamo che quella sia lo strumento che risolverà tutti i nostri problemi e invece probabilmente ne abbiamo di altri. Quindi, allora Pamela, condividiamo la tua schermata, dopodiché hai 30 minuti di spedizione. Ah, solo un'avvertenza in alto a destra, trovate questo bottone layout, se lo dovreste trovare su vista impilata, mettetelo su affiancato in maniera tale che così vedete bene le slide, vedete in evidenza chi sta parlando, anziché vedere 200 quadratini di tutte le persone, di cui tra l'altro molti non compaiono, però questa è la visualizzazione migliore per seguire una lezione. Pamela, io mi ammutolisco, la parola a te. Allora, buonasera a tutti, grazie per la presentazione, grazie a tutti coloro che sono qui, mi ha fatto anche molto piacere perché qualcuno di voi mi ha già scritto, mi ha già chiesto la connessione, mi ha anche scritto che non ci sarà e la vedrà successivamente, quindi io già vi dico che potete tranquillamente poi chiedermi la connessione se avete dubbi, farmi delle domande anche successivamente senza problemi. Allora, vediamo perché io non riesco ad andare avanti, soltanto. Allora, io mi presento, sono di Torino, forse si sente dall'accento. Mi occupo, come dicevo Svaldo, di LinkedIn a 360 gradi, quindi sia per quanto riguarda chi ha bisogno di trovare clienti, chi ha bisogno di farsi conoscere, le aziende che hanno bisogno di fare piano editoriale, chi cerca invece lavoro. Mi piace tanto fare divulgazione, infatti vado ad Eventi, ho un canale YouTube, insomma mi trovate un po' ovunque, dove parlo di LinkedIn e parlo anche di comunicazione interna e cioè delle problematiche che ci sono oggi relative alla comunicazione non efficace e quindi a lavorare ancora per silos che c'è all'interno di alcune aziende. Quindi prima di passare a una comunicazione esterna, attraverso LinkedIn, bisogna pensare anche un attimo all'interno, quindi a quello che succede all'interno dell'azienda. Questo in due parole cosa faccio? Lo faccio anche attraverso il coaching. Allora, stasera parliamo di LinkedIn. Il mio obiettivo è darvi dei consigli, perché qualcuno di voi già lo utilizza, Osvaldo lo utilizza benissimo e so già che è già stato il vostro mentor per molti di voi almeno sull'utilizzo. Vi parlerò di alcune novità, quando ci siamo visti con Simone abbiamo visto anche cosa poteva esservi più utile, cosa meno e anche appunto qualche cosa relativa alla pagina, quella differenza tra profilo personale e pagina aziendale. Partiamo da quella che è la mission di LinkedIn. LinkedIn. Quindi LinkedIn ha una propria pagina ovviamente sulla piattaforma in cui ci dice qual è l'obiettivo per cui è nata. È nata per connettere i professionisti del mondo per renderli più produttivi e di successo. Non c'è scritto da nessuna parte che è una piattaforma per trovare clienti, che è una piattaforma per trovare lavoro, che è la panacea di tutti i mali. È un social meraviglioso, è un social che si basa sulle persone, si basa sulle relazioni e sui rapporti. Perché è un social dove pensiamo di poter fare business? Intanto per i numeri. I numeri sono elevati. Io vi ho messo anche il link delle statistiche perché ovviamente vengono aggiornate e quindi queste sono le ultime che LinkedIn ha messo a disposizione. Quanti membri ci sono? Parliamo di profili, in Italia sono 15, quasi 16 milioni. Parliamo di imprese, quindi di pagine, e il totale nel mondo è di circa 57 milioni, in Italia di mezzo milione. Questi numeri ci fanno pensare che probabilmente, qualunque sia il nostro obiettivo, la persona giusta, l'interlocutore giusto, molto probabilmente è su LinkedIn. Poi dobbiamo andare a capire in che modo è su LinkedIn, perché avere un profilo non è assolutamente sufficiente per dire che si vive la piattaforma o che si possono ottenere risultati dalla piattaforma. LinkedIn si basa sui sei gradi di separazione. Questo è il motivo per il quale voi vedete a fianco ai nomi, i gradi, primo grado, secondo grado, terzo grado, terzo più. La teoria cosa dice? Che noi attraverso una catena di cinque nodi possiamo essere collegati a qualunque altra persona nel mondo. Quindi io voglio arrivare a Sempronio, mi collego a Tizio, che è collegato a che è collegato a Sempronio. Il passaparola, il classico passaparola, adesso si può fare attraverso LinkedIn e arrivare quindi alle persone anche più lontane e farci presentare. Una delle cose che viene sottovalutata è farci presentare dalle persone alle loro connessioni, ovvero studiare le connessioni di secondo grado, per chiedere di essere presentati. Questa è una cosa che io vedo fare pochissimo. Invece è uno degli spunti che vi voglio dare, perché se una persona ha lavorato con noi, a stima di noi, gli chiediamo di essere presentati perché abbiamo visto attraverso LinkedIn che sono collegati e probabilmente si conoscono, hanno collaborato, perché no? Se vogliamo generare un circolo virtuoso, LinkedIn ci aiuta perché noi presenteremo solo persone che stimiamo. Perché? Perché mettiamo in gioco la nostra reputazione. Infatti la prima cosa che io vi consiglio di fare, lo consiglio sempre a tutti e a tutti i livelli e non vi dico che l'ho fatto stamattina in un'aula con gli ingegneri e non vi dico cosa è uscito, è fare il personal surf. Quindi andare a vedere mettendo il proprio nome e cognome su Google che cosa viene fuori. Perché questo? Perché tutti noi ci buttiamo su LinkedIn per costruire la nostra reputazione. Chi in maniera consapevole, chi meno consapevole sa che attraverso LinkedIn a quello che postiamo, al nostro profilo, noi ci costruiamo una reputazione e di conseguenza generiamo meno fiducia nei nostri prospect, nei nostri clienti potenziali. Che siano datori di lavoro, che siano clienti, che siano fornitori, che siano istituzioni. Quindi gli stakeholder sono diversi per ognuno di noi. E andare su Google a volte ci sorprende perché escono fuori delle cose che non ci aspettavamo. Quindi è sempre bene riuscire a capire ed essere consapevoli di ciò che la rete dice di noi. Nel bene e nel male. Ed è per questo che io vi consiglio soprattutto a che aziende, normalmente le aziende, il marketing delle aziende ha strumenti più sofisticati ma non tutti ce l'hanno. Quindi il classico strumentino facile, facile, gratuito è Google Alert in cui potete creare un alert mettendo il vostro nome e cognome per vedere se qualcuno parla di voi piuttosto che quello della vostra azienda. Questo è il minimo per riuscire a avere l'idea di cosa dice la rete di noi. Perché le persone sono curiose esattamente come lo siamo noi, lo sono gli altri. Se una persona in qualche modo deve diventare un mio fornitore, un mio dipendente eccetera, io vado a cercarlo. Cerco su Google, cerco su LinkedIn, vedo cosa esce. Io devo essere coerente. Tra quello che esce su LinkedIn, dove io mi faccio vedere normalmente molto professionale, a volte troppo professionale e troppo freddo, ma ne parliamo successivamente, e tutto quello che esce altrove, se non siamo coerenti con i valori che noi dichiariamo, non siamo credibili. Giochiamo la nostra reputazione e quindi la fiducia che generiamo e le relazioni che possiamo generare con LinkedIn. La prima cosa che vi dico invece relativa al vostro profilo è che dobbiamo costruirlo con parole chiave. Perché LinkedIn è un motore di ricerca. Dopo Google e YouTube, che sono comunque stessa famiglia, è il terzo motore di ricerca in Italia. Significa che quando le persone mettono nel motore di ricerca delle parole, noi usciamo, esce una lista e esce prima ovviamente il profilo che è ottimizzato meglio, oltre a mille altri fattori che sono la vicinanza geografica, il numero di connessioni comune, eccetera. Ma è importante che il nostro profilo, che è la base, ci sono diversi step su LinkedIn. Il profilo, che hanno quasi tutti, la creazione di un network di business, quindi un network fatto con strategia, l'interazione con gli altri, quindi andare a commentare, a condividere, a consigliare quelli che sono i post altrui e poi scrivere i propri post. Qualcuno poi diventa un opinion leader. Adesso si chiamano creator, influencer, eccetera. Tra l'altro influencer, se voi guardate la in di LinkedIn, vedete a fianco ad alcuni nomi una in blu, quelli sono gli influencer che sono nati infatti su LinkedIn e non con Chiara Ferragni su Instagram ed erano ovviamente persone e dovrebbero essere ancora oggi persone in grado di trainare le persone, ok? C'è Bezos per dirvi, ok? Quindi queste tipologie di persone. Ma anche l'amministratore delegato di Satisfay, che non ha tantissimi follower, ma che sta facendo un grande cambiamento. Quindi possiamo seguire degli influencer. Questo nostro profilo deve essere fatto per piacere all'algoritmo, per piacere a noi stessi ovviamente e per piacere agli altri. Dobbiamo sempre pensare a tutte e tre le cose. Perché? Perché ovviamente il nostro profilo, se non utilizza nelle varie sezioni che sono il titolo, il riepilogo che si chiama informazioni, nelle esperienze attuali e precedenti, nella parte di formazione e di competenze, delle parole chiave che hanno a che fare con il nostro mestiere, con il modo in cui le persone ci trovano, le persone non riescono a trovarci. Vi farò vedere poi dopo, c'è una slide proprio sull'organigramma, perché se io cerco con delle parole chiave e nel mio profilo io non l'ho messe in maniera corretta, non faccio capire all'altro che cosa faccio, questo è un problema, perché non mi trovano. Noi ci dobbiamo mettere sempre nell'ottica altrui, nell'ottica di far capire a chi ci rivolgiamo e che cosa facciamo. In modo chiaro, in modo semplice, come parlassimo a un bambino, non nel modo in cui noi abbiamo firmato il nostro contratto, quindi non con l'organigramma interno. Qui vi ho messo dei consigli proprio veloci per quanto riguarda il profilo. Quindi la fotografia classica, intanto per favore mettiamola visibile, perché c'è gente che la tiene non visibile, quindi a meno che non ci sia qualche motivo particolare, mettiamola visibile a tutti, mettiamola anche recente. A me capita a volte di andare in aula e non riconoscere la gente, perché c'è la foto di quando sono laureati e adesso magari hanno 50 anni, irriconoscibili. E poi c'è il titolo. Quando noi facciamo un commento, chiediamo una connessione, rispondiamo o usciamo nella lista, in una lista di una ricerca, quello che si vede è il nome e cognome, la fotografia e il titolo. Il titolo sono questi 210 caratteri che LinkedIn traduce in sommario, ma in realtà è il nostro job title, quindi tutto quello che si vede direttamente sotto la nostra fotografia, in cui noi dobbiamo utilizzare delle parole chiave ma far capire anche chi è che si deve rivolgere a me. Perché vi dico questo? Vi faccio il classico esempio, visto che qui parliamo poi di risorse umane. Se io metto che sono l'HR di un'azienda, non vuole dire niente, perché non mi stai dicendo se ti occupi di sindacati e quindi io, che devo chiederti qualcosa relativo ai sindacati, te lo posso chiedere. Se ti occupi di selezione e quindi io, che voglio candidarmi per la tua azienda, mi devo rivolgere a te. Oppure se ti occupi di comunicazione interna o di gestione. dobbiamo far capire all'altro che cos'è che noi facciamo e chi è che deve rivolgersi a noi. Poi c'è una parte che a me piace tantissimo, che è in primo piano, la parte di featured. È una parte quasi nuova, nel senso che ormai ha un anno e mezzo, dove noi possiamo mettere il meglio di noi. Meglio di noi significa presentazioni, significa dei nostri post in evidenza, dei nostri articoli, delle presentazioni esterne, dei video motivazionali che dicono qualcosa per noi, i nostri manifesti, quello che vogliamo. Possiamo mettere PDF, possiamo mettere video nativi, possiamo mettere link esterni a video piuttosto che a pagine. Ed è una parte molto visibile perché è una parte grande, proprio esteticamente molto grande e quindi l'occhio cade. Sfruttiamola, questa la vedo nonostante abbia appunto già un anno e mezzo, quindi non è una novità, è poco sfruttata. Poi c'è la parte delle informazioni. La parte delle informazioni è l'elevator pitch. Che cosa dobbiamo dire? Chi sono? Cosa faccio? Cosa fa l'azienda se non lavoro in Coca-Cola? La mia azienda non è conosciuta. Due righe su cosa fa l'azienda per cui lavoro, che settore è, eccetera. Ci serve. Chi si deve rivolgere a me? E in che modo? La call to action finale. Diciamo cosa vogliamo che facciano. Se ti interessa approfondire, chiedimi la connessione, scrivimi a questa mail, chiamami a questo numero, numero sconsigliato. Direi chiedere la connessione, scrivere in chat o scrivere una mail. Dopodiché, le esperienze. Le esperienze, anche qui non mettiamo quello che è scritto nel nostro mansionario, perché questo è quello che si vede normalmente, ma quello che realmente noi andiamo a fare, per far capire in che cosa noi siamo esperti. E curiamo quella che è la riprova sociale, ovvero le competenze e le segnalazioni, che sono importantissimi perché? Perché sono gli altri finalmente a parlare di noi. Non siamo più noi, perché tutto il resto nel nostro profilo abbiamo parlato noi di noi stessi, mentre qui siamo, sono gli altri, a spendere del tempo per noi. E ora vi faccio vedere tre novità. Una è la campanella. Se voi andate, è in roll out, quindi se non ce l'avete tutti, non preoccupatevi, arriverà. Se andate sui profili, potete, che di persone che seguite o di connessione di primo grado, potete attivare la campanellina, esattamente come sui canali YouTube. Vi arriverà una notifica ogni volta che questa persona pubblicherà un post o un articolo, quindi un contenuto. Serve per perdere meno tempo e venire avvisati, non dovendo andare a cercare i post nei profili che a noi interessano, avere subito una notifica che le persone che ci interessano hanno pubblicato qualcosa. Ovviamente utilizziamola per qualcuno, non per troppe persone, perché sennò abbiamo le notifiche piene. Altra novità è la video cover, quindi se voi guardate nel profilo vedete che c'è una cornice arancione. Chi ha la cornice arancione è perché ha girato una video cover. LinkedIn permette di avere, un po' come le pagine di Facebook, un video di presentazione. Attenzione perché anche qui non è detto che tutti siamo in grado di stare davanti al video, piuttosto che farlo male non facciamolo, o usiamo degli escamotage. C'è chi utilizza i cartoon perché magari è bravo con la grafica, chi utilizza delle slide con delle frasi motivazionali perché ama scrivere. Ognuno può utilizzare essere creativi. LinkedIn per quanto sembri serio è anche molto creativo e quindi sfruttiamo la parte di creatività che è in noi e che LinkedIn ci permette. L'altra novità che è quella per chi bazzica un po' di più LinkedIn, che piace tanto, che aspettiamo, che è in roll out anche lei perché si sta evolvendo, è il marketplace. Vi ho detto prima velocemente, abbiamo una social proof che sono le referenze e le conferme delle competenze, abbiamo la parte di servizi. La parte di servizi, che abbiamo già tutti indisponibile per, e poi c'è scritto servizi offerti, evolverà in che modo? Innanzitutto oggi noi possiamo mettere fino a 10 servizi, possiamo scrivere il metodo con cui noi lavoriamo e chiedere a 20 nostri ex clienti di darci delle recensioni con le stelline. Quindi se voi andate sul mio profilo vedrete che ci sono le stelline, esattamente come TripAdvisor, Google My Business. Qual è l'evoluzione che c'è già in America? C'è una piattaforma in cui le persone possono andare a ricercare i freelance attraverso i servizi. Quindi diventa un vero e proprio marketplace, in cui le persone possono ricercarmi, io uscirò, se per esempio stanno cercando qualcuno che si occupi di, non lo so, marketing consulting, trovano me e mi chiedono il preventivo, si possono chiedere fino a 5 preventivi gratuiti. Questa è l'evoluzione. L'unica cosa negativa è che i servizi, essendo poi ricercabili, devono essere messi, cioè scelti da un menu a tendina. Questo significa che, per esempio vedete che qui LinkedIn non c'è, oppure il mio servizio è soprattutto relativo a LinkedIn, perché? Perché non esiste un servizio specifico, quindi dobbiamo andare su servizi vicini. Però sta evolvendo, quindi seguiamo come evolve, LinkedIn evolve sempre, stiamoci dietro e vediamo cosa accadrà. Comunque questo è l'obiettivo per far trovare i freelance. Dopodiché passiamo alla privacy. Una cosa, due cose, anzi velocissime, che vi può interessare, ovvero le opzioni di visualizzazione del profilo, quindi possiamo farci vedere in anonimo. Se noi ci mettiamo in anonimo, nel momento in cui siamo in anonimo, noi non vedremo, loro non vedranno che siamo andati a vedere il profilo, ma noi non vedremo chi è venuto a vedere il nostro profilo. Quindi attenzione, mettiamoci in anonimo quando facciamo l'attività che io definisco di intelligence, quando io vado a studiare il mio prospector, il mio competitor. Dopodiché mi metto visibile. Facciamo attenzione al profilo pubblico, che sia pubblico, quindi che sia visibile anche a chi non ha LinkedIn. Se io non ho LinkedIn, cerco Mario Rossi, esce il profilo LinkedIn su Google, io posso aprirlo da lì, senza entrare in piattaforma, cosa che non avviene per nessun altro social. Per i commerciali, si può scegliere di non far vedere i propri collegamenti, normalmente perché non si rubano i clienti gli uni gli altri, e l'altra cosa è, adesso che voi andrete a migliorare un pochino il vostro profilo, perché sarete appassionati dopo, stasera di più, vi verrà voglia di andare a modificarlo, ecco, siccome noi lo stiamo modificando, ma non stiamo realmente cambiando lavoro, mettiamo la condivisione dei cambi di lavoro sul no, perché sennò viene notificato a tutto il mondo che io ho cambiato lavoro, quando in realtà non è vero. Secondo step è il network, io qui vi ho messo qualcosa che ci dà LinkedIn per far vedere come si sviluppa il network, quindi attraverso le persone che hanno guardato il mio profilo, ottimo aggancio, se hanno guardato il mio profilo magari sono interessate. Le persone che conosco, che potrei conoscere, che mi suggerisce LinkedIn, le persone che ho incontrato fuori. E vi dico questo perché? Perché è importante che tutte le persone che noi abbiamo sulle nostre mail e sul nostro cellulare siano anche su LinkedIn. A me capita spessissimo di andare, soprattutto a livelli più alti in azienda, e vedere che, quando dico, ok, dobbiamo iniziare a creare il network, benissimo, andiamo a sincronizzare le mail e il telefono e vediamo cosa succede. E di colpo si hanno tantissimi contatti a cui puoi chiedere la connessione, con i messaggi, eccetera. Però il potenziale che noi abbiamo, chi mi dice no, ma io non mi posso collegare con nessuno, se guardiamo le mail, se guardiamo il nostro cellulare, ce ne sono tantissimi. Cos'è il network per LinkedIn? Scusa, ma me, 5 minuti poi in chiusura, perché vorrei tenere almeno un quarto d'ora per le domande. Uh, allora vado velocissima. Non vi dico cos'è il network e come costruirlo, vi dico soltanto che c'è una differenza tra seguire, sono stata lunga, scusami, tra seguire e fare, e chiedere la connessione. Io posso seguire una persona, oppure chiedere la connessione. Se chiedo la connessione, io potrò fare anche, usare anche la chat, e quindi direttamente mandarsi i messaggi. Vi dicevo, oltre il network, il terzo step è interagire, e qui vi dico solo la differenza che c'è tra commentare e condividere, perché io vedo che le persone pensano che condividere, soprattutto in azienda, condividono i messaggi dell'azienda, o condividono i post degli altri. Allora, la differenza è, se io condivido il post di qualcun altro, lo rendo visibile al mio network, ma comunque è una visibilità minore, perché è un contenuto vecchio. Se io lo commento, do valore e risalto a quel contenuto, perché per l'algoritmo significa che quel contenuto è importante, e soprattutto se lo rendo visibile, a collegamenti, ai miei collegamenti, ma io stessa sono visibile, alle persone che hanno commentato, o hanno consigliato quel contenuto. Quindi il consiglio è, non si condivide, si commenta, questo in linea generale. Poi, altra cosa è fare attenzione, quando decidiamo invece di scrivere. Scrivere significa, sia scrivere dei contenuti, sia riuscire a interagire con gli altri. Dobbiamo sempre metterci nell'ottica dell'altro, il post deve essere un post leggibile. Significa che si lasciano gli spazi, significa che c'è una call to action finale, in cui chiedo di fare qualcosa, devo dirlo se voglio che facciano qualcosa, in cui si inseriscono gli hashtag alla fine. Gli hashtag, attenzione, non sono i grassetti. Sono visibili solo le prime tre righe, quindi nelle prime tre righe, quando mettiamo il titolo al post, dobbiamo essere interessanti. qui LinkedIn bisogna essere costanti e non è one shot. Le ultime due cose che vi dico sono relative alla pagina, quindi qual è la differenza? La differenza è che il nostro profilo interagisce, ha delle connessioni, invia dei messaggi, perché? Perché c'è una comunicazione umana, dall'umano a umano. La pagina invece è completamente diversa. La pagina ha i dipendenti, può creare offerte di lavoro, può guardare i competitor, parlare ai dipendenti, ha varie statistiche, ha i follower, non interagisce. L'azienda, se non è taggata, non parla, perché chi è che parla? L'azienda è un'entità che non esiste. La comunicazione è su LinkedIn, anche la comunicazione dell'azienda è una comunicazione umana, in cui c'è sempre un grande problema, perché c'è sempre solo la comunicazione istituzionale, sono poche le aziende che hanno capito che la comunicazione LinkedIn è una comunicazione fatta di persone per le persone e non è il chi siamo del nostro sito. Quindi ho messo appunto l'organigramma per dirvi che è possibile guardare i dipendenti con i filtri, cercare la persona. La troviamo se lei ha messo, e se quindi anche ci trovano, se noi abbiamo messo il job title con le parole chiave con cui ci cercano. Ed è questo il motivo per cui è importante sapere con che parole ci cercano. Ultima cosa è quanto tempo ci può servire una volta che il profilo è a posto. Abbiamo preso un po' di dimestichezza. Abbiamo scaricato l'app, perché io vi assicuro che anche mentre ero a sciare ero lì che rispondevo e scrivevo i post. Perché c'è questo? Basta il cellulare. Sembra incredibile, ma è così. Quindi ci bastano anche 15 minuti al giorno, a regime. Non per chi fa il mio lavoro, ovviamente, ma per chi fa un altro lavoro. Perché ci serve per guardare chi ha visto il nostro profilo, vedere se ci sono persone interessanti ed eventualmente chiedere la connessione, accettare le connessioni, guardare tutte le notifiche e rispondere a chi ci ha scritto, vedere se qualcuno ha interagito con i nostri contenuti. Sfogliare il feed. Ci sono poi diversi modi per pulirlo il feed, quindi non avere argomenti che non ci interessano. E quindi se il feed è pulito, la campanella ci aiuta anche in questo, noi possiamo interagire con quei contenuti che ci interessano maggiormente e in cui abbiamo realmente qualcosa da dire e da dare. Uno degli assunti di LinkedIn è dare per ricevere. Si dà e poi si riceve. Ma si dà non con l'obiettivo di voglio fare soldi, voglio fare clienti, ecco questo è l'approccio sbagliato. Si dà per il piacere di conoscere l'altro, la curiosità, il piacere di far conoscere le proprie competenze, di divulgare, di conoscere anche gli obiettivi che hanno gli altri, proprio di amicizia. Si creano anche amicizie oltre che rapporti lavorativi. Ovviamente bisogna prendere un pochino la mano. Ok, ho corso, scusatemi, sono stata un po', mi sono dilungata un po' all'inizio. Lascio tutte le mie connessioni possibili, sito, Instagram, YouTube, dove ovviamente LinkedIn, dove volete mi trovate. Dimmi che sono stata nei tempi, fammi controllare, 11 sì dai, sono stata giusta. Perfetto, direi perfetto, grazie mille Pamela, puoi togliere la condivisione così si si. Bene, se risponde la cosa. Allora aspetta, devi toglierla, fammela toglierla. Faccio io, faccio io, faccio io. Bravo, togliamela tu perché vi ho piccoli piccolissimi. Grazie Cristina, è carina. E così bevo anche. Perfetto. Guarda. Allora, molto bene, per fare domande vedete che in fondo dove ci sono i vari tasti c'è scritto reazioni, trovate alza la mano, alzate la mano e noi vi diamo parola e parlate direttamente con Pamela. Allora, intanto, mentre vi scaldate e vi accalcate per fare le domande, ecco, c'è Carla già in prenotazione. Mi viene da fare una considerazione, Pamela, so che questo è il tuo pane e non voglio, come dire, bruciarti la professione. Però mi sembra che LinkedIn, diciamo, nell'ultimo anno ha preso una piega veramente molto, molto, molto commerciale, eliminando quelli che erano dei veri e propri servizi utili per il network come i gruppi che di fatto li sta facendo morire miseramente. Credo che Fiori di Risorse sia veramente uno dei pochissimi gruppi rimasti dove ancora ci sono dei post che non risalgono a sei mesi fa ed è un vero peccato a favore di oltre a servizi a pagamento ma anche a un eccesso di interazione, cioè il fatto della campanella per avere una cosa che già abbiamo fondamentalmente che è un thread dove le persone che seguiamo scrivono però è chiaro che poi ci saranno delle priorità date dagli algoritmi per cui magari ci perdiamo quelli che ci interessano più degli altri però ecco c'è veramente una fame di interazione da parte del social che oltre ad essere molto sospetta io poi sono un complottista diciamo proprio per buon natura però veramente molto sospetta nel voler continuare ad avere degli input cioè ora anche le stelline per i servizi mi ricordo quando qualche anno fa ero su una poltrona a casa di mia madre sarà stato dieci anni fa per Natale che è incominciato un giro di mail fra persone che chiedevano a persone che non conoscevano assolutamente a me sono arrivate non so quante mail e so che sono arrivati a tanti perché deve essere stato proprio un fiume che è girato dimmi cosa vuoi che scriva sulle tue referenze e poi ce le scambiamo gente che io non l'avevo mai visto invitami ecco non vorrei che anche le stelline diventassero questo gioco qua cioè quindi alla fine veramente mandiamo sotto sopra un social che aveva come dire un corpo bello e adesso sta diventando un po' un mezzo marchettaro sì allora diciamo che da quando è stato comprato da microsoft ovviamente le cose sono cambiate tanto pian piano tanto il fatto di mantenerlo un posto bello dipende un po' da noi cioè io quando vedo adesso sui servizi pochi pochi ancora li hanno e quindi ancora non sta succedendo mi lo vedevo già nelle referenze 5 te ne ho scritte 5 ne ho ricevute dalle stesse persone quindi finte platealmente ovviamente io dico sempre cioè si danno alle persone che noi stimiamo lì le stelline c'è una cosa mentre le referenze noi possiamo mandarle indietro le stelline se io ho fatto un servizio orrendo tu puoi venire da me mettermi una stellina e quello resta per sempre non è che te lo posso mandare indietro quindi anche un'arma a doppio taglio in realtà quello che era stato annunciato poi loro hanno lavorato tanto per i freni Pamela tu pensa se io prendo 200 amici ci mettiamo d'accordo per mettere una stellina a Silvia Vianello l'ammazziamo quello però possiamo mettere una stellina a Silvia Vianello no purtroppo questo no perché per il momento siamo noi doverlo chiedere non è come le referenze che possiamo lasciargliele però se evolverà io partecipo insieme a te molto volentieri però insomma che comunque io vedo sempre che piace tanto a volte mi chiedo cos'è che piaccia di sta donna non ne sfondo ognuno ha il suo pubblico per cui c'è mercato per tutti ormai non ah sì sì però l'importante è cercare di mantenere un posto bello quindi non facciamo le cose finte non scriviamo recensioni per chi anche non conosciamo il marketplace era stato annunciato in realtà per le pagine quindi per avere delle pagine prodotto di avere le recensioni sui prodotti perché perché vuole prendere un po' dare dei servizi che danno i veri proprio marketplace questa è una prova poi vediamo come le storie poi le ha tolte vedremo Carla vieni avanti fai la domanda a Pamela non ti sentiamo ti devi smutare eccomi qua smuta ciao grazie Pamela innanzitutto sì io sono abbastanza fruisco Linkedin in effetti e mi accorgo che c'è abbastanza ignoranza però ancora sulla piattaforma perché non si usano ovviamente fare recensioni non si usa confermare le competenze poi come dice Osvaldo molto spesso sono comperate no però una delle domande che avrei è legata a come faccio a memorizzare la persona che ho conosciuto all'interno della scheda cioè la versione inglese aveva una nota che permetteva di dire Osvaldo Danzi aspetta questo qui dov'è che l'ho visto quella volta cioè avevi la possibilità di scrivere conosciuto nel 2020 in occasione di non ce l'hai più il tag ce l'hai solo per chi ha il sales navigator quindi ti devi ricordare quella persona lì quella volta dove l'hai conosciuta perché se poi hai anche tante persone immagino che possa essere un problema vero ma se tu mandi o ricevi quando ricevi la connessione o invii la connessione il messaggio di presentazione allora da lì recuperi perché nella messaggistica si riesci a ricordare dove l'hai visto e come l'hai visto va bene questo c'è la nota che si di accompagnamento alla connessione può essere un'opzione dici per evitare per ovviare al tag che hanno tolto si ok seconda e ultima domanda è vedo tanti messaggi in cui si usa molto il corsivo il grassetto ma come si fanno a fare quelle varianti sui font allora adesso ti dico come si fanno uno dei modi per farle vi dico quando lo fate però fate attenzione non tanto perché l'algoritmo non legga le parole in ottica seo nei post conta poco ma perché sull'iPhone su Samsung funzionava bene sull'iPhone poi diventava tutto un rigore non era leggibile adesso è più leggibile quindi controllate sempre se lo utilizzate esistono varie estensioni io ho varie estensioni ho vari siti quello che io utilizzo è Iai Text YAY 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 è un sito esterno è un sito esterno dove copi incolla il testo e te lo trasporta esattamente sì da LinkedIn internamente non si può formattare ah ecco infatti siccome io lo usavo così quindi io devo uscire gli ai text sì copi la frase che vuoi cambiare e me lo porto dentro esattamente poi hai varie opzioni c'è il corsivo c'è sottolineato come lo vuoi tu lo copi e te lo riporti e lo puoi riportare sia su LinkedIn se fai i post direttamente su LinkedIn se li programmi per esempio con post pick buffer quello che volete lo potete portare anche lì ok ho capito mentre è normale che qualcuno che abbia fatto una recensione nei miei servizi offerti appaia solo nei servizi offerti e non nell'elenco che hai delle recensioni cioè nel tuo profilo tu hai già delle referenze di qualcuno ti appare lì ma non ti appare poi nei servizi offerti quindi io a questo punto la domanda che faccio è ma se una persona comunque ha messo 5 stelline sul tuo servizio perché deve entrare nel vedere il servizio e non può vedere da fuori nel tuo profilo le referenze che hai non credo di aver capito la domanda perché sono due cose diverse appunto infatti proprio perché sono diverse dico supponiamo che un cliente abbia detto io ho lavorato bene con Carla su questa questa cosa e l'ha inserita l'abbiamo inserita dentro servizi offerti ok ok ti ha lasciato le stelline su un servizio ok esatto ma nel servizio ok allora uno se non entra nel servizio non vede le recensioni ah sì allora la domanda che faccio è ma perché prima nel profilo non mi puoi fare un overview generica delle recensioni hai capito? sì sì ho capito no per adesso non sono visibili un po' perché sono pochi che lo fanno non sanno bene neanche come farlo e poi perché le stelline sono proprio appena nate ok anche le recensioni le referenze scusatemi sono basse sì sono molto in basso quelle che vengono fatte esatto e non so sono poco visibili bisogna che la gente sappia dove andare a cercare la stessa cosa vale per i servizi in realtà quando sarà tutto attivo e quindi dal marketplace gli altri potranno venire a cercare cercheranno un servizio e usciremo nel listato lì ci sarà la valutazione delle stelline ok ho capito aspettiamo allora immagino l'utilizzo dall'altra parte ok grazie prego Stefania Casalini vieni avanti ciao ciao a tutti ciao 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 intanto grazie ho letto anche il tuo libro è molto utile io mi occupo di informazione mi occupo di ricerca attiva del lavoro quindi è un mondo in cui sto cercando disperatamente di approcciarmi con entusiasmo e studiando parecchio non è facile però sto cercando perché giustamente è imprescindibile una domanda che mi fanno spesso nelle aule di persone che cercano un nuovo lavoro ma Linkedin è uno strumento che va bene per qualsiasi figura professionale cioè da tua esperienza c'è qualche quali sono i profili a cui è meglio dire di no e a quelli a cui invece consigliarlo spazzatamente allora diciamo che per profili impiegatizi definiamoli così va benissimo qualunque livello non ci sono ancora perché poi magari ci saranno medici a parte i chirurghi estetici i medici ci sono molto pochi qualcuno c'è inizia a divulgare per esempio c'è medici per esempio ci sono cuochi c'è qualche cuochi io mi sono anche scritta a una sua newsletter che lo utilizza ma sono dei pionieri quindi anche appunto queste tipologie di persone i commercianti ci sono poco perché hanno altri mezzi il medico normalmente non parla proprio nel senso che il medico il medico è Dio in terra e ci salva la vita e va bene quindi difficilmente ci metterà più tempo secondo me ad arrivare se non particolari casi i commercianti hanno la Google My Business Instagram che è molto più immediato quindi è diverso non vai a creare una relazione di un certo tipo per questo LinkedIn era nato era utilizzato soprattutto nel B2B e poi tutta la parte di produzione c'è chi c'è ma non per trovare lavoro cioè LinkedIn va benissimo per rimanere aggiornati su tutto però per cercare lavoro ecco per esempio della parte appunto di produzione è più facile che ci siano delle banche lavoro esterne perché comunque LinkedIn non è una job board ha la sezione del lavoro però non è una job board a volte la gente mette il CV e pensa che basti quello non è così poi a livello impiegatizio direi che piano piano arriviamo a tutti chi più chi meno impiegatizio in su ovviamente perfetto chiarissima grazie prego penso sia beniamino sì ciao a tutti innanzitutto grazie a Fior di Le Sosse grazie Pamela perché comunque sono sempre molto interessanti questi contributi mi ha colpito una cosa che hai detto all'inizio per cui ti volevo fare una domanda rispetto proprio a questa affermazione dici LinkedIn rischia di essere un posto troppo professionale che cosa intendi insomma troppo professionale ha a che fare con il concetto di creatività di cui parlavi prima oppure quella diciamo modalità tu hai usato la parola freddo troppo freddo ecco volevo un pochino sentire la tua opinione anche rispetto a questo modo di essere su LinkedIn sì allora a volte le persone arrivano su LinkedIn e sono istituzionali proprio un po' come fossero aziende devono farsi vedere in un certo modo ok e quindi sono fredde perché perché ti raccontano di loro stessi in maniera come se dovessero vendere se stessi ma come professioniste non come persona quello che io dico sempre su cui faccio vedere poi i TED eccetera è facciamo capire il nostro perché facciamo capire i nostri valori facciamo capire che persone siamo perché la qualità del prodotto e del servizio oggi non siamo negli anni sessanta oggi è data per scontata quello che cambia tra scegliere me e te la nostra proposta di valore non è dirti il mio prodotto è migliore del tuo e chi l'ha detto ma è io sono questa persona se tu in qualche modo ti rispecchi nei miei valori nel mio modo di essere nel mio modo di comunicare allora potremo avere un buon rapporto questo dobbiamo far emergere per questo dico dobbiamo essere umani non vuol dire dobbiamo farci vedere in costume con la birra ecco quello c'è facebook per raccontare ai nostri amici fatti nostri ma far capire che persone siamo cosa ci piace fare per avvicinare le persone questo sì perché è un social comunque non è un posto non è una riunione di lavoro quindi è come andare a una cena diciamo di gala tra virgolette e chiacchierare con tutti questo deve essere il mood ovviamente siamo professionali significa che se scriviamo dei post perché vogliamo far conoscere il nostro lavoro il nostro pensiero eccetera siamo professionali ma a volte si scambia la professionalità con l'essere freddo perché si parla di leadership gentile perché va tanto il coaching io quando vado a fare business coaching in azienda vedo delle persone che mi dicono davvero sei considerato un leader perché sono fredde non hanno ascolto delle persone non gliene frega niente pensano al profitto e attenzione io sono un economista l'obiettivo è il profitto lo sappiamo ma è il percorso che facciamo per raggiungerlo e quanto facciamo stare bene o male io vengo da un posto dove si stava anche male le persone che lavorano con noi e io da come tu scrivi da come ti poni a meno che tu non sia un bravo attore per carità e ci sono vi assicuro anche quelli più o meno capisco che persona sei e se per me puoi essere un buon collaboratore un buon cliente un buon fornitore poi ci si può sbagliare ovviamente spero di averti risposto sì molto lineato anche a questo tipo di approccio grazie grazie prego molto bene non vedo altre domande ma siamo arrivati praticamente al termine ringrazio Pamela per Svaldo Svaldo aspetta bisogna chiedere a Pamela che cosa con che cosa vuol barattare la sua competenza Pamela con cosa vuoi barattare questa cosa qua però vorrei aprire una paura Pamela rispondi se vuoi dopo di che la eliminiamo perché abbiamo visto a essere onesti che tanto non funziona sta roba qui cioè uno chiede ma nessuno risponde per cui troveremo il modo di barattare in altre maniere diciamo io vorrei barattare con la cioccolata o con qualcuno che venga a sciare con me possiamo scegliere credo che non avrai difficoltà a trovare qualcuno che venga a sciare con te ma ancora di meno a trovare della cioccolata questi sono i miei due obiettivi grazie se trovi un cioccolataio che ti porta a sciare è la cosa migliore sai che io invece cerco l'uomo di Salerno quindi che sappia sciare beh allora Pamela grazie mille per 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 l'intervento ricordiamo il titolo del tuo libro link per chi cerca un nuovo lavoro e adesso è uscito il secondo cioè quello più avanzato poi giuro basta perfetto io intanto approfitto per condividere non questa schermata qui che non mi interessa molto quanto invece allora volevo farvi vedere questo che avete avete sicuramente ricevuto anche nella newsletter insieme a umane risorse per chi si occupa di risorse umane o chi è in procinto di fare una scelta o gestisce persone sta partendo umane risorse la quarta edizione che conoscete già bene tutti ma dal 28 di febbraio parte anche Giusto Tono il secondo dei master di scuderia formazione è un master sulla comunicazione aprirà la prima lezione guardate quante cose inone che finiscono aprirà la prima lezione Anna Maria Testa a seguire avremo Diego Parasole avremo Petra Schrott avremo Andrea Barchiesi di Reputation Manager avremo veramente tutte persone estremamente importanti nell'ambito della comunicazione e parleremo di comunicazione in una maniera profondamente diversa ovvero non vi insegneremo a mettere le virgole ma vi insegneremo a promuovere i brand attraverso i valori e la reputazione andremo in profondità su strumenti come le newsletter e i comunicati stampa andremo a spingere su quello che è la comunicazione attraverso la videocamera che oggi è diventato uno strumento praticamente basilare ma ancora in pochi sanno comunicare bene di fronte a una telecamera e tutto quello che serve diciamo per fare una comunicazione un po' più moderna del solito senza parlare sempre di Kotler perché sennò rimaniamo ingabbiati agli anni 60 e non ne usciamo più provate tutte le informazioni sul sito di Scuderia Formazione che è fdr scuderiaformazione.it se avete piacere di vedere un po' tutte le attività che stiamo portando avanti vi ricordo anche che è uscito l'ultimo numero di Senza Filtro informazione senzafiltro.it molto bello perché è un numero che parla di parole del lavoro quindi ci saranno una ventina di articoli sulla comunicazione del lavoro su come il lavoro parla quindi leggetelo e a gratis quindi fa solo bene grazie a tutti prossimo appuntamento sarà martedì prossimo con Alberto Aleo e Alice che abbiamo avuto modo di conoscere già in altre occasioni i famosi passo 2 sarà un intervento sulla vendita etica quindi non mancate buona serata a tutti e alla prossima grazie a tutti buona serata ciao ciao a tutti grazie a tutti